Io sono ancora qua! Eccoci qua! Chi è della zona sa che croce è. E dove si trova questa croce? A L'Oglia, su per la strada di L'Oglia. La giù c'è l'autostrada, il viadotto, andiamo qui giù. Qui si vede proprio bene. E quello lì sotto è Bozzano City. Si vede bene la chiesa in tutta la zona a sud. Non si vede tutto il lago ma una buona parte. Naturalmente è il lago di Massaciuccoli. Si vede il mazzupio? Eccolo qua il mazzupio. Eccolo qua! Sono venuto a fare la spada lì. Eccoli qua! Sono tornato perché questa è la seconda uscita stagionale. Ora Ferruccio va subito da guardare. Oh Ferruccio, piappe il culo! Lo sai no? Questo discorsino non ti è nuovo vero? ma te lo rifaccio un'altra volta guardiamo se ti ricordi oh Ferruccio un piappe il culo calideva e poi lo sai cosa no? quindi sempre e solo tiri su tiri giù e poi anche quell'altro lo sai quindi è inutile continuare che poi il solito ignoto potrebbe di qualcosa e invece così un po' di ruffo eccoli ora se non caposare il bastone se no mi cascano tutto tagliamolo vediamo se mi casca tutto in terra eccoli qua lo sparaci del giorno naturalmente questo ultimo pezzo qui l'ho lasciato me lo mangio troppo buono anche crudo è troppo buono sentire il sapore dell'asparago almeno per me è un buon sapore altro che sigaretta e i miei due organi che fanno i caraci neri e gas vieni qua ecco il mio cassone gas vieni qui vieni qui fatti vedere da roberto e ferruccio ginevra questa è ginevra roberto e ferruccio si sono i due dell'ave maria robertino mi piacerebbe farsi una spaghettata di asparagi poiché qui non è la zona sono venuto giusto per inquadrare l'autostrada ma di asparagi ce ne sono ben pochi allora visto che ho fatto il bischero scendere giù non mi tocca risali su risali nella montagna questa qui questo video qui lo metterò come secondo video naturalmente su youtube oh ferruccio ho piappe il culo la lideva in pe eh chiusa bellina poi la vede il tuo amichetto il solito gnoto che hai visto te non cercare di andare dove vedi perché che cosa hai visto che non ti quadrava che hai rizzato la testa e le orecchie cosa hai visto fermati fermati lì che sei stanco lo vedi vedi che sei stanco anche te sei stanca e non ti lecchi il muso a quel cane nero come il calcone e andiamo su e andiamo su quell'altro versante qua poco più su venite qua venite qua forza come on baby questa è sempre la prima e lui sempre l'ultimo ragazzi siamo poco più su sempre con quel cazzo di fiatone e con questa buzza come faccio a non averlo il mio marsupio a differenza di Stefano quell'esaurito di Stefano ascolta ma allora 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 ve lo ricordate si Stefano quello col cappellino alla pescatora cioè il mio genere che fa tanto il ganzo gas e vieni qua gine ginevra andiamo venite qua non andate da soli su che se per caso incontrate un cane ce la fa la guerra la guerra se non la fa Saddam fermati vieni qui gas ecco da qua su il cane c'è mi sento a bagliare vediamo bene non si cita eccoci qua da questa angolazione qui si vede tutto il lago tutto il lago qui a ore 12 c'è il viareggio dietro il lago naturalmente c'è torri del lago se no non si poteva chiamare diversamente e la sua a destra ma c'è molta foschia c'è l'alta Versilia Lido di Camaiore Marina Pietrasanta Forte dei Marmi ma non si vede niente con le bellissime giornate si esce a vedere anche l'isola d'Elba di qui naturalmente Capraia la Gorgona non si vede niente a occhio nudo si riesce a malapena a vedere i monti di Livorno non so se con la ripresa si riesce a vedere come siete? ma perché? perché? vieni qui stai qui con me lo senti? sta in ferma quando sente l'abbaglio di quel cane noi andiamo lassù semmai se no ci roviniamo la giornata ora rifacciamo un altro piccolo regalino a Ferruccio naturalmente l'amico del solito gnoto eccoci qua oh Ferruccio un fiap per il culo che vedeva impestato ah 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 questa è l'integrale naturalmente l'originale ce l'ho sul pc ah ce l'ho anche qui sul telefono l'ho messa come suoneria quando mi chiama Ferruccio naturalmente e poi sempre l'uso ora andiamo su quella pinetina là e ci sono sempre state Non ci hanno fregato in questi due giorni, sicuramente troveremo una bella manciata da spazzicino. Gas, vieni qua! Dove vai da solo? È possibile! Gas! Sei un testone, vieni! Andiamo! Sempre da solo! Più su, 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 yeah! Col cuore che basta è più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende, alla mariconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido.